Nel momento storico in cui l'Europa, il mondo intero e per la verità anche e soprattutto il pianeta Terra chiedono di fare i conti con la transizione ecologica, è fondamentale sapere cosa abbiamo sotto i piedi in termini di serbatoi GPL, perché il dramma di Ravanusa non debba più ripetersi, è necessario localizzarli e manutenerli. A questo fa riferimento l'emendamento a firma del senatore D'Alfonso approvato nell'ADL fiscale e riferito all'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL nel sottosuolo istituita presso l'Inail. Abbiamo fatto approvare dal Senato, ma dall'altro ieri anche dalla Camera dei Deputati, un mio emendamento che stabilisce l'obbligo per il sottosuolo italiano di rivelare che cosa c'è sul piano della conduzione del GPL, del materiale anche infiammabile. Allora è diventato obbligatorio per ogni amministrazione, per ogni suolo italiano che si sveli e si riveli quanti sono i serbatoi esistenti in Italia e magari anche con un'attività di esercizio risalente. Io so che ci sono un milione e mezzo di serbatoi che non vengono controllati e attraverso questa anagrafe bisognerà rivelarli e farne conoscere la condizione di funzionamento. Quello che è successo a Ravanusa noi dobbiamo fare in modo che non accada mai più dal punto di vista delle condotte del sottosuolo, dei contenitori, dei recipienti, dei serbatoi. Con questa norma presentata da me e votata all'unanimità da tutti i parlamentari finalmente conosceremo che cosa c'è nel sottosuolo. Poi lavoreremo per un piano regolatore del sottosuolo. Non è possibile che nel sottosuolo ci sia tutto e il contrario di tutto e magari anche di pericoloso o pericolante per la vita dei singoli, delle famiglie e delle imprese. Tutti dovranno comunicare a questa anagrafe attraverso l'E-Nail chi realizza cosa e soprattutto vederne la vetustà, la funzionalità, la sanezza, la capacità di attività, le perdite, le cricche che si creano nei materiali saranno finalmente monitorati. Noi non possiamo essere più colti di sorpresa. È successo a Pineto qualche anno fa, qualche giorno fa a Ravanusa, non deve più accadere. Grazie a tutti.